Vada e ziki! Let's go! Ciao mamma! Buongiorno mamma! Chris? Ti sei pettinato? Non so come! So cosa fare! Guarda! Ciao Chris! Scegliamo lo stile! Stile leone! Oh! Stile scimmia! Adesso sei tu Chris! Viva viva viva! Grazie signor Fettine! Prego! Non dimenticare di pettinarti tutti i giorni! Ciao! Ciao! Dai! Siediti! Oh! Cos'è successo Chris? Sei lavato i denti? No mamma! Signor Spazzolino ti aiuterà! Ciao! Let's go! Ora lavati i denti! Adesso so come lavarmi i denti! Sììì! Sono pronta! Sììì! Ho fame! Una mela! Alt! Ti sei lavato le mani? No! Perché Chris? Non ho il sapone! Ho un'idea! Guarda! Oh! Signor saponetta! Ciao! Ha una sorpresa per te! Ciao ciao! Un kit crea il tuo sapone! Scegli il colore! Rosso! Andiamo! E mescola! Yeah! Yeah! Wow! Metti in frigo per raffreddare! Quasi pronto! Yeah! Sono pronta a lavarti le mani! Yeah! 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 Oh no! Oh! Oh no! Ho un'idea! Ispezzo! Oh no! Oh no! Oh no! cosa è successo Chris? come mai sei così sporco? non ti fa bene fatti una doccia voglio fare un giro in macchina auto, bagno so io cosa fare ciao Mario ma certo signora ok adesso costruiamo bellissimo che meraviglia davvero un lavoro fantastico grazie ciao ciao Chris c'è una sorpresa per te è per te, guarda Chris ti piace? sì mamma mi piace ok andiamo andiamo ragazzi ricordate sempre che l'igiene è pulizia e salute da questa parte ciao ciao benvenuto al Five Season Hotel ecco la sua chiave grazie soldi ok la camera è sporca mi scusi signore pulisca la mia camera per favore richiami per favore pulisca la mia camera per favore ok 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 cosa è successo? la camera è sporca puliamo ho finito ho finito ma fa troppo caldo ok non c'è di che eh? soldi ok oh il minibar oh dov'è la cioccolata? mi scusi signore ho fame chiami voglio mangiare cibo? ok Vlad ci serve del cibo oh hot dog ok a tra poco avanti servizio in camera cosa? dov'è il mio cibo? ops cosa? per quello? mi scusi la tv non funziona ok canale musicale look me in the eyes tell me what you see perfect paradise steering gamble seams la musica è finita soldi per favore aiuto non c'è acqua signore non c'è acqua sì Vlad abbiamo bisogno dell'acqua ok andrà tutto bene il blocco delle tubature è stato rimosso sta arrivando l'acqua oh no oh no aiuto c'è un ragno in camera dav'è ragno qui aiuto che l'ho fatta l'acqua opsì ehi soldi soldi grazie per essere venuta arrivederci ciao